buonasera cari amici siamo in collegamento con il vice presidente della settima circoscrizione di palermo fabio costantino per tornare a parlare di un argomento che a noi sta molto a cuore che abbiamo seguito direi giorno per giorno facendo la conta dei giorni per la situazione che si è venuta a creare molto molto strana e molto difficile da raccontare parliamo del parcheggio di tommaso natale a servizio della stazione del passante ferroviario che è aperta dal dall'ottobre del 2018 il parcheggio a quella data era già completato sono passate esattamente 950 giorni e ancora il parcheggio è chiuso il perché ve l'abbiamo spiegato in altre occasioni i problemi di consegna tra RFI e il comune il parcheggio attualmente rimane a RFI che è l'ente appaltante l'ente che ha realizzato l'opera e perché secondo il comune manca di alcuni elementi fondamentali ma questo ce lo facciamo raccontare direttamente da Fabio Costantino che è in attesa salve Costantino ci racconti la situazione e gli ultimi sviluppi di questa annosa vicenda salve 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 buonasera a tutti e grazie per l'invito ormai è l'ennesima trasmissione che facciamo su questo tema è un tema che diciamo importante perché quell'area ormai finita in termini di opere non trova la luce ovvero non viene consegnata ricordiamo bene ha ricordato bene lei che RFI diciamo ancora non ha consegnato l'opera al comune di Palermo ovvero nella fattispecie per ultimo sta progettando l'impianto di illuminazione pubblica per poi sottoporre all'attenzione diciamo del del comune di Palermo quest'opera sarà come dire aperta alla cittadinanza un'arteria comunque importante è quella quella di collegamento tra il quartiere Marinella e il quartiere Speracavallo ma quel parcheggio in particolar modo è fondamentale tempo fa dicevamo che c'era stato un intoppo ovvero la realizzazione delle fognature antirratto così ci spiegava il comune di Palermo erano delle opere che il comune aveva chiesto anche di realizzare adesso sembrerebbe che l'ultimo l'ultimo intoppo riguarda appunto la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica RFI si sta impegnando così sono le ultime notizie che abbiamo avuto a realizzarle e poi dovrà consegnare queste opere al comune affinché possa essere aperto quel parcheggio alla cittadinanza vero è che non si sanno i tempi di consegna di questo di questa realizzazione dell'impianto e questo è sempre diciamo il nostro eh come dire punto che rimane mancante punto dolente che rimane mancante e che però necessita certamente anche di un impianto di illuminazione il comune eh io sono sempre drastico su quello che fa sulle scelte che fa questa amministrazione del comune di Palermo però all'order vero fin quando perché abbiamo detto anche in passato che ci sono anche delle aiole incolte che il comune potrebbe eh successivamente curare queste aiole realizzare anche qualche giochino eh per i bambini però finché il comune non entra in possesso di questo di questo parcheggio non possiamo additare o dare delle responsabilità eh all'amministrazione finché tutto questo non non venga non venga concesso appunto. Ed è proprio questo il punto eh scusi vicepresidente eh la situazione attuale è di totale stasi perché quest'opera rimane formalmente chiusa però tutto sommato viene fruita dai cittadini perché sappiamo che attraverso i varchi cominciano a passare le persone ci sono anche eh dei dei rifiuti che abbiamo visto nella zona ci sono anche atti di vandalismo che possono danneggiare un'opera pubblica ecco noi speriamo la notizia eh che ci dà lei ci conforta perché finalmente una volta che si pone mano alla progettazione a questo punto ci sarà da aspettare i tempi approvativi e forse su questo consigliere ci sarà da vigilare lei che ne pensa? Certamente assolutissimamente sì io come voi sapete eh starò sempre attento vigilerò vigilerò affinché diciamo eh tutto non si non non passa diciamo inosservato quindi sarò sotto silenzio dico sarò sempre attento e vigile su questa vicenda ormai eh che mi sta molto al cuore come abbiamo fatto così eh sarò ripetitivo nelle scorse puntate eh però è vero anche quello che dice lei eh ormai le persone attraverso i varchi ehm gente incivile conferisce dei rifiuti degli ingombranti e chiaramente eh si creano anche in questo caso delle difficoltà perché il comune non può intervenire perché non è un'area ehm che ha già preso in possesso e quindi eh anche ehm come dicevo poco anzi le aiuole sono incolte e quindi i bambini che attraversano attraverso i varchi questi spazi quindi io penso che sia doveroso che RFI acceleri su questo progetto e che dia finalmente eh questo questo parcheggio eh al comune di Palermo affinché eh possa essere fruibile eh e attenzionato allo stesso tempo nello stesso comune di Palermo. Anche perché parliamo di di oltre 130 posti auto che sono utili per l'interscambio perché eh si può finalmente lasciare l'autovettura e prendere il treno per quell'intermodalità di cui tutti si riempiono la bocca però poi nel momento in cui bisogna fare realmente le cose nascono le difficoltà difficoltà che secondo a mio modesto avviso si poteva risolvere molto prima di aspettare 950 giorni. E tra l'altro eh Roberto mi consenta eh noi io tra l'altro abito in zona conosco bene quell'aria e ha detto bene 130 posti auto che certamente eh danno beneficio alla borgata di Tommaso Natale e coloro dei quali diciamo utilizzeranno eh diciamo quel posteggio per poi prendere i mezzi di trasporto legati al parcheggio. Eh ma la cosa ma la cosa eh come dire eh che dà fastidio è che lei sa bene quante volte io abbia sollecitato ehm diciamo il comune di Palermo RFI l'ultima volta sembrava che eravamo quasi eh per eh giù di lì per tagliare il nastro per per l'inaugurazione perché era stato fatto un sopralluogo congiunto così mi disse ai tempi il l'ingegnere città ti mi disse che eh tra non molto sarebbe stato sarebbe avvenuto un 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 sopralluogo congiunto affinché quest'area potesse passare eh transitare da RFI a comune di Palermo ma poi così non è stato e invece poi ci siamo continuati a tenere aggiornati ed è l'ultimo aggiornamento che vi ho dato è quello che diciamo il comune di Palermo attende questo progetto di illuminazione pubblica affinché poi possa essere consegnato. E speriamo che si faccia presto. Noi le diamo atto di essersi veramente interessato per questa vicenda perché abbiamo avuto devo dire eh pochi interlocutori in questo senso eh per non dire soltanto lei qualche eh notizia abbiamo avuto da RFI ma in via del tutto informale ehm abbiamo anche interlocuito con il sindaco e con l'assessore della mobilità che appunto ci hanno riferito che c'erano questi problemi ma hanno ci hanno dato come dire una data certa per la loro risoluzione questo ci ha lasciato un po' attoniti questo a questo passaggio di consegne doveva avvenire a fine anno a novembre poi è saltato tutto proprio perché evidentemente ci si è eh come dire un attimino si è tornati indietro sulle posizioni perché ricordiamo per chi non avesse eseguito la vicenda il progetto del passante ferroviario prevedeva questo parcheggio ma lo prevedeva senza illuminazione il progetto è stato approvato però col parere del comune quando poi si andate alla consegna RFI ha detto eccolo qua il parcheggio il comune ha detto no non c'è la luce la faccio facile da seguire e RFI ha detto ma come non c'è l'illuminazione ce l'avete detto voi avete approvato voi il progetto ecco ecco questa è la pecca del comune questa è la pecca del comune che non ha letto le carte prima dell'approvazione quindi ha approvato il progetto nella suo interesse ovvero senza l'illuminazione pubblica adesso si sta correndo ai ripari quindi io auspico che questo si possa realizzare nell'immediato appunto per dare la possibilità alla cittadinanza di utilizzare quel parcheggio sarà mia cura a Roberto e la ringrazio sempre per il suo invito seguire quest'iter lei sa bene che io non mollerò nei prossimi giorni contatterò RFI affinché diciamo si possono avere sempre notizie e si possa come dire dare un'accelerazione su questa vicenda. Noi gliene diamo atto e la ringraziamo tantissimo a nome dei cittadini più che altro perché è un servizio che facciamo a loro noi siamo stati in questo vigili devo dire che l'attesa si è propongata al di là delle nostre aspettative speriamo comunque a questo punto di poter presto vederci sul posto per il taglio del nastro consigliere Costantino penso che sia l'augurio migliore che possiamo farci. Infatti. Bene allora noi la ringraziamo ancora una buona serata e diamo appuntamento ai nostri amici alla prossima occasione magari per delle altre buone notizie oggi ne abbiamo avuto una abbastanza buona speriamo di averne presto delle altre grazie ancora grazie a voi grazie a voi buona serata grazie una buona serata